Però dobbiamo passare adesso agli artisti che ci hanno mandato i loro provini, il loro demo. Il primo si chiama Mark Compagnoni, il pezzo si chiama Moon Raker. Lui è un po' l'istrumentista di Lovere Bergamo sul lago di Iseo. Sul disco suona tutti gli strumenti, ottimo chitarrista, velocissimo nei tapping e negli arpeggi in legato. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!